Non si vede il mare da quassù. Nell'edicola si vendono i giornali. Domani ci si sveglia presto. Stasera si può andare al cinema. Loro si prendono la mia auto. Al ristorante si mangia bene. Si dice che quest'anno nevicherà. Spesso si viaggia di notte. Dalle piramidi si vede il deserto. Ieri sera si è parlato di tutti voi. Se si sta male è meglio dormire. Si prevede una gran pioggia. In estate si fanno le vacanze al mare. Non si finirà per vendere la casa. Si puoi dormire la casa. Gi Ma come giù la portiera. Sai ero che la sensazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.